E' una tragedia veramente, anche abbastanza bambino di un anno, troppo. Con questi bambini ci si devono stare attenti, perché pure io ho tre nipoti, però li costruisco, anche mia moglie lo costruisce, perché qui anche la gente non ci sta più con la testa. Ancora sgomento e incredulità a Martinsicuro dopo la tragedia avvenuta giovedì sera in via Marco Polo e costata la vita al piccolo di 18 mesi che qui viveva insieme ai suoi genitori di origini nigeriane. Sono scioccato io, io sono sceso adesso perché mia moglie ha messo a piangere, perché poi quando abbiamo preso la casa 15 giorni fa, quel bambino, penso sia quello, era uscito dalla porta che è, era venuto dentro casa mia, un bambino bellissimo. Non so, non c'è altre parole, guarda, sono scioccato. Alcuni dei commenti circolati sui social nelle ore successive del drammatico incidente non sono affatto piaciuti all'assessore ai servizi sociali Marcello Monti, che ai nostri microfoni invita a non lasciarsi condizionare dai pregiudizi, ma anzi a mostrarsi solidali. Invito caldamente in questa occasione, abbiamo bisogno di persone che ci tranquillizzino, che ci aiutano un po' a superare queste difficoltà, a non fare, non scrive in modo avventato la prima cosa che viene in testa, la prima reazione che può essere anche una reazione piuttosto scomposta. Martinsicuro, città dove risiedono cittadini di oltre 60 paesi del mondo, è capitata a una persona, una persona che viene da lontano, naturalmente da lontano, però siamo vicini come se fosse una persona, un autoctono, uno di noi, Martinsicuro è solidale.